Ciao, sono Barbara e oggi siamo sul set del calendario Beautiful Curvy 2015. E' la prima volta che partecipi a un calendario? Assolutamente sì, è un sogno, non me lo saremmo aspettata. Tu che tali apporti? Io sono una 48. Ok, ma ben proporzionata direi, no? E come hai saputo di questo calendario? Ho saputo tramite internet, ho cliccato su Google Curvy, Blue Sides, Model Formose e mi è uscito fuori il tuo blog. Ti ringrazio tantissimo perché finalmente ho potuto vedere delle vere donne con le curve, che è bellissime, con dei visi splendidi. I used to enjoy painting stars on my paper plane. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!